Amici del vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati, venerdì 18 ottobre, puntata l'appuntamento con l'analisi e il sunto delle principali notizie di politica internazionale, ma vedremo oggi anche di economia e di moneta, do subito il benvenuto ai miei ospiti del venerdì, Lamberto Rimondini, benvenuto. Carlo, buonasera, Armando, buonasera e buonasera a tutti gli amici e amici che ci stanno ascoltando. Mi porti via il lavoro, mi presenti già Armando Savini, Lamberto Rimondini, ricordo, ricercatore indipendente, scrittore, conferenziere, benvenuto Armando Savini. Grazie a tutti. Direi complimenti anche per l'intervista a te, per i contenuti, io l'ho condotta a te per i contenuti, l'intervista che è stata molto seguita e apprezzata, uscita domenica scorsa dal titolo Geopolitica e Kabbala, che segue l'intervista, che segue le tracce del tuo nuovo libro, Il complotto degli arconti, è stata molto seguita, molto apprezzata, quindi bene, una cosa che fa molto piacere. Allora, la puntata è estremamente densa, quindi io chiedo già adesso ai miei ospiti una sintesi per poter trattare i tanti temi. Allora ne cito due proprio per, diciamo, introdurre un po' la nostra puntata. L'Austria che si muove verso i BRICS, mentre la Serbia ha presentato ufficiale richiesta di ammissione all'organizzazione che la settimana prossima, ricordo, terrà il suo primo summit allargato, quindi a Kazan, ripeto appunto, nella versione allargata a dieci paesi. E BlackRock che si prepara sotto traccia, si sta preparando sotto traccia al collasso del dollaro. Ma direi che la notizia proprio di questo momento viene dal Medio Oriente con l'uccisione del leader di Hamas, Sinvar. Lamberto, cosa è avvenuto e quali sono a questo punto le prospettive? Ho letto la stampa, ovviamente, l'informazione mainstream a dare la notizia con un certo compiacimento. Ma quello che si può dire è che la sensazione è che ci sia una sorta di orchestra che determina una serie di fatti all'approssimarsi delle elezioni statunitensi che ormai sono davvero vicine. Quindi il sospetto è che ci siano degli accordi anche un po' forse sotto banco da parte dei vari governi per cercare di mantenere da una parte un copione e quindi soddisfare l'opinione pubblica e dare in pasto anche a fatti di cronaca un po' cruda, tipo questo assassino, che ci sia dietro una sorta di regia proprio per enfatizzare alcuni eventi. Sono un po' tutti collegati, Serbia, Austria che si avvicinano al BRICS, l'assassinio di un leader di Hamas, BlackRock che si prepara al crack di una valuta che essa stessa ha determinato e da cui ha avuto grande beneficio. Quindi è una sorta di grande Macedonia che lascia probabilmente tutti noi un po' straniti. In fondo c'è comunque direi il lieto fine alla fine, non sarà una cosa tragica. Per esempio ci sono voci di corridoio, ovviamente non confermate, che Israele attaccherà sicuramente l'Iran, concordato anche questo, prima delle elezioni statunitensi, così come correvoce che un altro scenario probabile sia quello di un attentato false flag in Romania nella base Nato con esplosivo convenzionale. Quindi sono una serie di elementi che messi insieme danno l'idea che appunto ci sia una sorta di regia di un copione. Quindi ci sono notizie diciamo di ufficiali che la stampa riporta e notizie ufficiose che creano anche un po' di suspense, come se fosse un grande romanzo a cui stiamo per assistere con un evento all'inizio novembre che sicuramente determinerà un cambio di passo. Come ho già detto e concludo, gli accordi li hanno già presi. Gli accordi li hanno già presi. Armando, Lamberto l'ha toccata piano in questo primo intervento, si fa per dire, ovviamente. la battuta. Non sarebbe diciamo una novità. Noi sappiamo già che, abbiamo già parlato qualche puntata fa, abbiamo anche messo dei post sul mio canale, sul Chaos Mega, che Hamas è una creatura di Israele. Noi sappiamo che Singwar è stato uno che non ha mai voluto la pace tra Israele e Palestina. Proprio uno che ha instigato, che adesso leggevo qualche notizia su qualche testata internazionale, che adesso parte di Hamas vuole spingere per una escalation. Quindi da una parte abbiamo prima Netanyahu che spinge per l'escalation, adesso abbiamo Hamas che spinge per l'escalation. Singwar era uno di questi che spingeva per l'escalation. Io ricordo che alcune testate israeliane, alti sopra di ogni sospetto, tipo Haaretz o altre, qualche mese fa riportavano proprio notizie su questa relazione tra il governo Netanyahu e Hamas, addirittura di una valigetta piena di credo dollari che era stata trasportata dal governo a Hamas. Quindi è chiaro che un po' viene usato come grimaldello per creare la crisi e poi dopo fare quello che abbiamo visto, cioè tabula rasa a Gaza. Ricordo, parlavo prima, che qualche mese fa, un anno e mezzo fa, la rivista The Quero riportava un articolo, sempre di Haaretz o di un'altra testata israeliana, in cui si parlava di alcuni documenti che erano usciti, un leak dal governo israeliano, in cui si progettava di ripulire Gaza, di creare una regione ad alta intensità tecnologica, quindi di capitale, e poi importare lavoratori a basso costo in questa nuova Eden israeliana e questi lavoratori sarebbero stati abitanti di Gaza. Quindi il progetto è chiaro da parecchio tempo e è chiaro che per creare una crisi da soli non è sufficiente, serve sempre una controparte. Assolutamente. Senti, stiamo contermando perché l'Iran, e stiamo comunque in Medio Oriente, perché qui si parla veramente di escalation, quantomeno regionale, perché l'Iran afferma di avere armi molto superiori a Israele. L'ex ufficiale di servizi segreti del corpo dei Marines americani e ispettore delle armi delle Nazioni Unite, Scott Ritter, ha dichiarato che Israele è condannata all'annientamento totale dall'Iran e che la Russia aiuterà il contrattacco iraniano. Cioè la fonte, Scott Ritter, è una fonte estremamente autorevole. Assolutamente. Ma questo era un elemento che già avevamo visto e dove avevamo parlato e letto qualche giorno fa, qualche settimana fa. E credo che sia anche una delle cause per cui Israele ha guadagnato tempo, ha cercato di guadagnare tempo. Diciamo la crisi quando parlava del Rosh Hashanah, del Capodanno. Non sappiamo se contrattaccheremo l'Iran per il nostro attacco, perché adesso c'è il Capodanno. È chiaro che c'è una volontà di non scadere nel nucleare, anche perché quella terra deve essere pronta. Ricordiamo The Blessing, la benedizione. Cioè quello deve essere il corridoio dove Israele... Ricordiamo che adesso, l'abbiamo detto la settimana scorsa, il ministro delle finanze israeliano parlava di grande Israele. Libano, Egitto, no? Ecco. E quella era, guarda caso, proprio quella cartina geografica che Netanyahu ha portato all'ONU chiamandola The Blessing. Cioè tutta questa grande area governata... La benedizione. La benedizione è governata da Israele, mentre qualora Israele non avesse agito in questo modo era tutta nera, the curse, la maledizione, no? L'Iran, l'Ira, eccetera. E quindi questo perché cosa? Perché Israele potrebbe essere il capoponte di quella che è la via del cotone, che è la nuova via americana per congiungere e tagliare con le merci e tutta l'Eurasia. E che fa poco a portare la sede. La via della seda, diciamo. Esattamente. L'avversaria della via della seda. Quindi ecco che abbiamo un interesse sia geopolitico, sia geoeconomico, ma anche poi di matrice religiosa. Perché ricordiamo che Israele si muove sempre con quel contesto in cui abbiamo già detto in geopolitica e cabala, che c'è sempre una visione metafisica dietro che la fa muovere in un certo senso. Poi abbiamo altri obiettivi intermedi che sono quelli geopolitici, geoeconomici, finanziari. Sì. Lamberto, siamo partiti dalle parole di Scott Ritter. Beh, è evidente che se i BRICS avessero un armamento inferiore a quello anglo-statunitense sarebbero già stati spianati. Quindi l'Iran è uno stato a canaglia, non ha la banca Rothschild dall'interno. A noi raccontano che gli stati canaglia, sono canaglia perché non si sa perché, non c'è democrazia, non c'è libertà, eccetera. In realtà... Motivi ufficiali. Certo, certo. In realtà ce li descrive così il mainstream perché non hanno la banca Rothschild e quindi sono cattivi. L'Iran ha un armamento certamente molto, molto, molto elevato, molto più di quanto possiamo immaginare. La mossa di far pervenire in Israele il sistema di difesa antimissile balistico statunitense, il Tad, a Berceva. Significa che il rischio, o quantomeno il film del rischio di un attacco c'è. Come ha detto giustamente, acutamente Armando, l'arma nucleare non sarà mai la via perché serve quel territorio, ma ci sono armi molto più devastanti e di sterminio di massa rispetto a quella nucleare, armi che hanno il vantaggio di poter intervenire direttamente sul territorio, quindi no a radiazioni. Quindi banalmente i missili termobarici scatenano un'onda di fuoco e calore, tolgono l'ossigeno per una ventina di secondi e quindi chi è nelle vicinanze si scioglie, chi è lontano non ha l'ossigeno e ha la sensazione di soffocare e quindi muore d'infetto dal panico, chi è molto lontano spostamento d'aria. Quindi queste sono armi terribili che hanno, consentitemi, il vantaggio di non determinare radiazioni. Ecco, le armi termobariche l'Iran le ha. Quindi in uno ipotetico scenario se si accorderanno su una ritorsione dall'Iran a Israele, allo stato sionista Kazzaro, Israele rischia seriamente di essere spianato. Spianato significa finire la popolazione animale, uomo e animali, senza contaminare. Dato che pare ormai certo che Israele farà un attacco massiccio ante elezioni per alzare l'asticella, è altrettanto ovvio ritenere, sempre salvo sorprese, che l'Iran risponderà in maniera pesante, quindi fa parte del gioco di quello che ci hanno abituato negli ultimi tempi. Rimane il quanto detto prima, la sensazione che emerge in certi ambienti è che si siano già accordati, quindi che la parola fine, quindi il come finirà è già definito. Torno su un tema velocemente e concludo, proprio qualche ora fa ho riguardato alcuni documenti desecretati e mi è ricapitato in mano il dossier di Mattei e quindi il progetto di John Fitzgerald Kennedy, ovvero di dare a Washington, a Roma e a Mosca un ruolo nella geopolitica, quel progetto di cui si è già parlato e quel progetto è citato nei documenti, è una delle motivazioni per cui è stato eliminato Mattei, quindi è nero su bianco, quindi ciò che arriverà avanti nel tempo di qui a qualche anno sarà la messa in opera di quel progetto e quindi stiamo assistendo a una naturale conclusione del gioco. L'informazione libera e indipendente non è mai stata così importante. Al vaso di Pandora ci impegniamo ogni giorno per fornirti analisi approfondite, rubriche esclusive e interviste senza filtri, lontane da ogni forma di propaganda. Sostenere un'informazione di qualità è fondamentale per mantenere viva una voce indipendente. Con il tuo abbonamento ci aiuti a continuare questa missione e a migliorare il servizio che ti offriamo. Abbonati oggi su ivdp.it e unisciti alla nostra famiglia di ascoltatori consapevoli. Insieme possiamo promuovere un'informazione di qualità. Sì, ha toccato tanti punti Lamberto. Hai un punto in particolare? Sì, quello che è stato detto volevo anche contestualizzare alcune altre informazioni. Ricordo che Erdogan, presidente turco, ha chiesto alle Nazioni Unite di approvare l'uso della forza contro Israele. Questo è molto importante. C'erano altre due punti che sono fondamentali, che gli Stati Uniti hanno minacciato l'embargo sulle armi a Israele se la crisi umanitaria a Gaza non sarà risolta entro 30 giorni. E che quindi ora Israele sta affrontando una carenza di missili intercettori per i sistemi di difesa. E questo l'ha ricordato il Financial Times. Data questa situazione militare, un po' di deficienza all'interno di Israele, tenendo conto anche delle armi iraniane, ricordo che l'Iran ha detto chiaramente abbiamo delle armi peggiori di quelle atomiche e qualche giorno fa, se non erro, l'attacco di droni iraniano era stato fatto con droni fatti in Russia. Quindi questo è stato un messaggio, la Russia sta supportando l'Iran. Ricordo che qualche mese fa c'è stato un summit tra Cina, Russia e Iran proprio per una difesa comune. Quindi c'è un aiuto, un interscambio tra Russia e Iran, ma presumibilmente anche la Cina darà il suo apporto. Come anche la Nord Corea sta dando apporto alla Russia. Quindi c'è un interscambio all'interno dei BRICS. Senti Armando, una riflessione volevo sentire da te. Le armi di cui parlava Lamberto, che sarebbero in possesso dell'Iran, rispetto all'opinione pubblica, potrebbero avere degli effetti che sono più accettabili? Potrebbero essere più strategiche, nel senso che potrebbero avere degli effetti, diciamo, nell'esplosione più accettabili? Perché sai, il fungo atomico, è chiaro, che genera lo sdegno, direi, di tutti, a quel punto anche dell'Occidente. Mentre un'arma che produce quegli effetti, sì, ovviamente ha distrutto, ha portato morte, adesso chiariamoci, non creiamo equivoci anche in queste mie parole, ovvio, non voglio che vengano equivoci, però ha degli effetti che potrebbero essere, sì, insomma, portano a distruzione, però non è il fungo atomico, voglio dire, no? Un discorso un po' sottile, secondo me, che mi rendo conto può essere magari frainteso, ma vorrei sgombrare questo equivoco, ecco. È chiaro, sono armi che devastano localmente, quindi chi sta da un'altra parte rimane e continua a vivere una vita sicura, ma d'altronde non ci dobbiamo sorprendere più di tanto, perché fino adesso hanno ammazzato donne e bambini a Gaza e nessuno se ne è preoccupato, cioè il problema è che finché non entriamo nell'ottica che gli altri siamo noi e ognuno se ne sta al calduccio nel suo focolaio, è chiaro che l'arma nucleare mette paura perché poi arriva la nube tossica, finché, come dicono alcuni, si ammazzano fra di loro, no? Questo purtroppo è il ragionamento che poi porta alla crisi delle civiltà. Eh sì, sagge parole. Sagge parole, caro Armando. Senti, restiamo nel tema del conflitto in Medio Oriente, perché Giorgia Meloni ha dichiarato che l'Italia ha interrotto le forniture di armi a Israele e congelato i contratti. Cosa puoi dire in merito, Armando? Sapevamo che il governo era un po' titubante. Il governo Meloni ha sempre seguito una certa linea atlantista, però poi si è sempre fermata e ha sempre cercato di puntare i piedi per non entrare in un conflitto diretto con la Russia, quindi aveva un po' i piedi in due staffe. Potrebbe sembrare che il governo abbia dovuto fare certe cose perché l'Italia, è uno stato colonia con cento e rotte tredici basi americane sul territorio. Però credo anche, e questo è importante la dichiarazione di Meloni, perché fa capire che se dal 7 ottobre l'Italia ha interrotto le forniture e congelato i contratti, vuol dire che la roba italiana, i missili italiani non stanno contribuendo alla strage, quindi è un modo anche per tirarsi fuori, ma soprattutto credo che le cose stiano cambiando un po', cioè nel senso che la Meloni l'impressione che ho è che abbia un po' temporeggiato, stia temporeggiando da un po' di tempo in attesa che cambiasse l'inquolino della Casa Bianca. Da quando Elon Musk è arrivato a Roma, hanno parlato con la Meloni, eccetera, anche se poi non è solo Elon Musk, ma anche Fink, Larry Fink di BlackRock. E poi è uscito anche questo scandalo dei contratti della Sogei, per cui sembra che, come abbiamo accennato poco, anzi il governo avesse già approvato una fornitura dei servizi di Starlink, bypassando tutte le varie procedure. Anche questo dobbiamo tener conto che Elon Musk è colui che supporta Trump e con un'adesione dell'Italia alle reti di Elon Musk, Starlink è strategico anche da vista militare. Poi questa è un'ipotesi, una domanda aperta, se questa guerra tra bande, tra elite, per una nuova visione geopolitica dipenderà anche dai segnali e quindi Starlink da una parte che poi dipende dai satelliti e gli altri segnali di terra che sono sempre soggetti a attacchi, missili, roba varia, quindi un taglio delle comunicazioni può sempre arrivare da un momento all'altro. Chi lo sa, ecco, che stando su Starlink possono essere attivati servizi che diversamente non potrebbero essere attivati sui cavi, via cavo. Ecco, Lamberto, qui c'è già tutta la panoramica per la tua analisi, perché Giorgio Meloni che ha appunto dichiarato che l'Italia ha interrotto le forniture di armi a Israele. Il patto, diciamo, con Elon Musk sui satelliti Starlink e lo scandalo Sogei, e qui ti cedo semplicemente la parola. Beh, indubbiamente Giorgio Meloni sa che esiste la mafia kazara e quindi essendoci ormai a breve un'elezione negli Stati Uniti che produrrà effetti in ogni modo si stanno prendendo delle misure e delle contromisure. Va chiarito che è il Ministero nostro della Difesa che fa richiesta di Satelliti Starlink perché servono in particolare proprio in Medio Oriente. E perché fa questa richiesta? Perché, come ho anzi detto, si sa benissimo che esiste la mafia kazara, cioè l'impero sionista. Calco su questi termini perché chi ci ascolta deve piano piano assimilare il concetto che un conto sono gli ebrei e un conto sono i cosiddetti sionisti, ovvero mafia kazara. E chi è che controlla la comunicazione militare strategica oggi? La mafia kazara. E quindi avere un sistema di comunicazione che è svincolato dal controllo della mafia kazara, ovvero i satelliti di Elon Musk, significa impedire a Tel Aviv di controllare le comunicazioni strategiche. Ovvio che una certa stampa supportata finanziariamente dai sionisti in Italia attacca Elon Musk e racconta di presunte probabili o meno probabili azioni non corrette. In realtà non è assolutamente come viene raccontato. Da quello che è emerso un po' nel sottobosco, la situazione è un po' diversa. O meglio come ho detto, lo scopo strategico è quello di prepararsi, di preparare l'Italia a quel ruolo di cui ho già parlato più volte, deve diventare il perno Roma rispetto a Washington e rispetto a Mosca. Quindi si deve affrancare dal sistema di comunicazione controllato dai sionisti. Quindi presto o tardi emergerà il metodo di gestione che è affidato, controllato dalla Sogei, viene utilizzato un software che si chiama MAPS, che tratta tutte le forniture del Ministero della Difesa, quindi dalla caramella al missile. Quindi magari andrà approfondita quella parte e probabilmente si capirà anche chi ha beneficiato, chi beneficia di quella struttura, magari da dietro le quinte. Quindi in attesa dello tsunami prossimo che arriverà, godiamoci lo spettacolo, però la mossa del governo in questo caso mi sento di appoggiare senza sé e senza ma ciò che Giorgia Meloni ha fatto con Elon Musk, perché se noi abbiamo le nostre comunicazioni strategiche intercettate e controllate dalla mafia kazara non andiamo da nessuna parte. Quindi la strada giusta è quella di togliersi. Armando, hai qualche commento da fare su questo? Il microfono. Concordo con l'analisi Lamberto e aggiungo una cosa, anche il fatto che Trump stia lanciando, abbia già cominciato a lanciare la sua criptovaluta e noi ora sappiamo che lui ha il 67%, dei voti. Quindi sarà il prossimo presidente, molto presumibilmente, e quindi avremo anche una criptovaluta del presidente, anche se non è gestita direttamente da lui, ma dai figli e dalla società. Quindi avremo un presidente con una criptovaluta e questa criptovaluta dovrà correre su qualche protocollo e quindi questi protocolli dovranno correre su delle telecomunicazioni. Quindi anche questo è un fattore molto importante, anche perché, come accennavi prima, il dollaro è in procinto del collasso. Ricordo che Trump è tornato di nuovo a parlare della dedollarizzazione e ha ribadito qualche giorno fa che chi dedollarizza non commercerà con gli Stati Uniti e addirittura li verranno applicati dei dazi del 100%. È vero che c'è questa tendenza a non voler perdere questo esorbitante privilegio, però oramai, come ha detto Putin e come hanno detto anche altri capi di Stato, questo processo di dedollarizzazione è partito ed è inarrestabile, perché stiamo entrando in una nuova fase, in una nuova era economico-finanziaria. È chiaro che se… Il mainstream, lo accetti o meno, si sta entrando. Sì, è chiaro. Non è che nascondendo la testa sotto la sabbia gli eventi cambino. Se non fosse così, se il dollaro non fosse a rischio di collasso, non si spiegherebbe il perché Trump abbia lanciato la sua criptovaluta. Ricordo che qualche giorno fa leggevo che addirittura XRP, che è un'altra criptovaluta, verrà lanciata e ha addirittura un valore superiore a Bitcoin e sarà una delle criptovalute protagoniste in questo nuovo sistema. Ricordo che XRP è una delle pochissime cripto che ha un sottostante, un sottostante in metalli, diversamente dal Bitcoin che non ha sottostante. Poi ricordo che anche questa nuova politica fiscale che va a tassare il Bitcoin dal 26% al 42%, questo è molto importante, ha anche questo qui un risvolto geopolitico. Vince Trump ha la sua criptovaluta e il Bitcoin, che mi dispiace per molti che hanno investito e che credono al Bitcoin, ma è sempre stata, secondo molti analisti, la criptovaluta dei democratici, della mafia gazzara, con cui venivano pagati anche i riscatti. Io ricordo che quando ci fu l'attacco hacker a quel grande distributore di carne negli Stati Uniti e gli sottrassero milioni di dollari, quei milioni, mi sembra 4 milioni di dollari, qualcosa per avere le password, quei 4 milioni o più, non ricordo adesso l'esattezza, furono pagati in Bitcoin, perché non tracciabili. Quindi XRP che emerge, la valuta del Presidente, questa tassazione sul Bitcoin. Ricordo che Bitcoin è un asset finanziario e chi è che investe Bitcoin, in realtà, investe nel mercato americano. Quindi mettere una tassazione al 42% vuol dire andare a arrestare, a ostacolare la geo-economia nordamericana, la stelle strisce. Cioè la geo-economia è quella dinamica per cui io non ti invado militarmente, però ti influenzo economicamente finanziariamente. Coca-Cola, i panini e tutto ciò che ha la bandierina a stelle strisce e che invade i mercati, come McDonald's, eccetera, eccetera, anche quella fa parte di un disegno geo-economico. Quindi è importante anche questa risposta che il governo ha dato, una tassazione sul Bitcoin. Cioè lasciate il Bitcoin, forse, per investirli diversamente. Lamberto, hai delle riflessioni da fare a merito? Sicuramente la mostra di Trump, di questa criptovaluta, è un primo ponte del nuovo sistema statunitense verso gli attuali BRICS. Come ho già avuto modo di dire nelle puntate passate, l'obiettivo a passi costanti, vanno sempre nella stessa direzione, creare questo meccanismo, BRICS attuali e BRICS statunitense con l'Europa in mezzo. Questa mossa di Trump, che forse avevo accennato, venerdì scorso, va proprio in quella direzione, creare un primo embrione di dialogo. Dialogo, che ricordo è certamente necessario, specie dopo la conferenza di Kazan. Ci sarà, fa breve. Nella prossima settimana. Perché il mondo BRICS, bene ricordarlo, ha creato un suo sistema finanziario, ha una sua moneta di scambio internazionale che può usare o no, quindi la Russia può pagare la Cina in rubli, in yuan, ma anche in unità. Il nome in codice, ricordo, era B5. Dunque, questa moneta, questa valuta, ha un suo sottostante al 40% in oro e al 60% in materie prime. Perché i BRICS hanno fatto questa scelta? Perché hanno fatto 100% oro, per esempio, che poteva essere anche una scelta simpatica per certi aspetti, magari memory del gold standard 1815. Perché non hanno l'anello al naso, ovvero tutto il mercato dell'oro mondiale, dalla notte dei tempi, è in mano alla mafia kazara. Piaccia o no? Ci sono i possessori, perché come tutte le cose tangibili, voglio dire, il possesso è di chi, cioè la proprietà è di chi ne ha il possesso, no? Ovviamente. Esatto, però il mercato lo controllano l'oro. Cosa voglio dire? Che di oro nel pianeta Terra ce n'è una montagna, letteralmente una montagna. E chi gestisce quel mercato dell'oro fa esattamente, o meglio, i produttori di parmigiano reggiano hanno imitato i gestori del mercato dell'oro. Cioè, ne mettono sul mercato poco, perché così il prezzo rimane alto. Questa è la politica dei produttori di parmigiano reggiano, giusta o sbagliata che sia. C'è la banca del parmigiano, per capirci. Quindi, chi controlla il mercato dell'oro ha interesse, a seconda di come va il mondo, a metterne di più o di meno nel mercato, per controllare il prezzo. Ovvio che se ce n'è poco, il prezzo sale. Se c'è molta domanda, il prezzo sale. Se c'è molta domanda e non si mette oro sul mercato, il prezzo schizza. Tipo adesso. Adesso l'oro è al massimo storico, ed è inevitabile che quando certi gruppi finanziari invitano a investire nell'oro, parlo dei grandi gruppi, non della bottega cambio oro, è evidente che vanno a rastrellare nelle tasche dei piccoli investitori che, ahimè, abboccano, si fanno abbindolare dai pifferai e dopo accade che il prezzo dell'oro brutalmente crolla. Questo è una cosa ciclica. Dov'è l'impiccio serio oggi? Che oltre a quello appena detto, quindi al rischio che i grandi gestori del mercato a un certo punto dicano sai cosa c'è? Andiamo all'incasso e quindi il prezzo dell'oro cala, c'è anche un aspetto geopolitico, geoeconomico e geostrategico che dobbiamo considerare. Da tanto tempo l'oro sta crescendo di valore e la moneta unità che sarà ufficializzata tra poco ha un sottostante del 40% di oro, non 80% d'oro e 20% di materie prime, ma intelligentemente 40% di oro e 60 materie prime. Non è che sono scemi i BRICS, l'hanno fatto perché sanno che la mafia cazzara controlla quel mercato e se la mafia cazzara decidesse di mettere sul mercato solo una piccola parte dell'oro presente in Congo, ecco che, dico una cifra per capirci, da 100 Euro l'oncia, che non è il valore però per fare l'esempio, passerebbe tranquillamente a 50. Ecco che la signora Maria che magari aveva 100 mila Euro in banca, risparmi di una vita e ha comprato tutto oro perché gli hanno detto che era la strada da percorrere, si troverà ad avere la metà del valore. Quindi in questa parte di storia, in questo momento storico, se uno ha 100 lire da investire è meglio che faccia 3 mucchietti, un po' di oro, un po' d'argento e che ne so, un po' di terra, un po' di mattoni, perché investire solo in oro adesso è un po' come avere una bella rivoltella, rotare il tamburo e sparare. Se va bene non c'è il proiettile, se va male è finita. Perché la mafia cazzara si è messa, giustamente dalla sua ottica, un'arma di ricatto sul tavolo. Se i BRICS schiacciano troppo, metto in commercio un po' di oro e la moneta a unità non diventa più pregiata come magari ce la fanno apparire. Ho specificato bene il termine. Quindi massima prudenza, massima prudenza. Cosa ne pensi Armando di questo? Guarda, io ricordo che c'è stato anche qualche settimana fa, qualche mese fa, lo portavo anche sul mio canale, quell'informazione che davano le testate russe, per cui i BRICS si stavano organizzando anche per istituire una commissione che prezzasse l'oro e avesse appunto un tallone a mosca, proprio per evitare questi giochini del fissare il prezzo dell'oro a seconda delle necessità. Ricordo che qualche anno fa la Bank of England riversò sul mercato dell'oro ingenti quantità, aveva dei lingotti, fece cadere il prezzo dell'oro e la Nigeria ebbe grosse perdite, perché era il più grande produttore di oro. Il prezzo dell'oro scese e quindi la Nigeria ne risentì davvero molto di questa caduta del prezzo dell'oro. Quindi ecco, questi giochini purtroppo esistono, ci sono sempre stati, però ecco, credo che i BRICS poi prima o poi riusciranno anche a formalizzare, come hanno fatto per la moneta, anche per un'istituzione che fissi il prezzo dell'oro al vantaggio dei paesi produttori e non degli speculatori. Per quanto riguarda il prezzo dell'oro, ora abbiamo visto che sta a 2.600, 2.700 dollari. È destinato a salire anche oltretutto. Sì, credo di sì, perché arriverà, secondo alcuni analisti, anche a 3.000 dollari l'oncia. Io ricordo, e qui è importante ricordarlo, che dagli accordi di Bretton Woods era 35 dollari l'oncia. Perché l'oro rispetto al dollaro vale così tanto? Nonostante poi durante tutti questi anni ci sia stata anche una crescita dell'estrazione, quindi della quantità di oro. Perché giustamente, a livello logico, sono stati stampati tanti biglietti, come ho spiegato in tante puntate, gli Stati Uniti in tutti questi decenni hanno acquistato senza spendere. Cioè arrivano lì le esportazioni dei paesi europei prima, poi della Cina, eccetera, eccetera. E ok, sì, grazie, scarica, tieni freschi freschi di stampa. Questi li investi sulla mia banca, compri le mie azioni, eccetera, eccetera. Poi abbiamo visto che quando la Cina ha cominciato a non acquistare più titoli del debito pubblico americano, e poi abbiamo visto che i BRICS hanno accelerato il processo di dollarizzazione, l'offerta di dollari è aumentata sensibilmente. Ora ricordo che qualche giorno fa c'è stato un post su, sembra che sia Twitter ex di un advisor, un consigliere economico che si chiama Judy Shelton, era il consigliere economico di Donald Trump, che Trump propose anche per la Fed, ma poi alcuni dissero di no e quindi si arenò la candidatura di questa analista, che poi anche credo Biden fece fuori. insomma, ecco. Lei è un'assidua sostenitrice del gold standard e dice appunto che bisogna ritornare al gold standard anche per la posizione che hanno gli Stati Uniti, anche ricordo che 4NOX è pieno di oro e gli Stati Uniti sono il primo paese al mondo per detenere oro nella banca centrale. Anche gli altri paesi. Sì, sì, e poi ricordiamo che c'è la Germania, c'è anche l'Italia. Appunto, stavo intendendo l'Italia. Il nostro oro è dislocato a Bruxelles, a Londra e a 4NOX, quindi non so quanto ne è rimasto in banca. Armando, scusami, domanda proprio sì o no, ecco, perché dopo dobbiamo toccare un altro punto e abbiamo in questo momento otto minuti a disposizione. Lo rivedremo mai l'oro che è nostro depositato all'estero? Ma penso, spero di sì, insomma, soprattutto se poi la Casa Bianca cambia inquilino. Bisogna essere anche ottimisti nella vita. Come? Bisogna essere anche ottimisti nella vita. Certo, certo. È chiaro che quando c'è qualcosa lontano, oltreoceano, insomma, in uno Stato che potrebbe diventare avversario, la storia ci insegna che come hanno congelato i conti russi, cioè se io rivendico il mio oro, ma il mio oro sta a 4NOX, perché sta a 4NOX il mio oro? Perché sta a Londra? È chiaro, perché non sta a casa mia? È una maniera per tenere gli stati coloni a posto, insomma, ecco. Ma so che per esempio la Germania ha richiamato il proprio oro, adesso non so che accordi ci siano tra... e poi però abbiamo visto anche... Lo vedo Scholz a imporsi, a portarlo a capo. Lo vedo proprio caratterialmente parlando. La politica di Scholz, insomma, dimostra chiaramente perché l'oro si è entrato in Germania. Comunque, ecco, Judy Shelton è molto importante perché è consigliera di Trump e lei auspica un ritorno al gold standard. Io non so se si tornerà al gold standard, ma qualora anche il dollaro cominciasse a muoversi in questa direzione, assisteremo a che cosa? A una contrazione dell'offerta di dollari ed è questa l'unica risposta che ci può essere alla de-dollarizzazione. Per mantenere il valore del dollaro in auge, per non farlo crollare definitivamente, è necessario ancorare il dollaro all'oro e se non all'oro anche a altri asset reali, perché abbiamo un diluvio dei dollari. Quindi questa potrebbe essere una risposta. Essendo questa analista l'advisor di Trump, è possibile che quando Trump ritorni alla Casa Bianca, questa Judy Shelton abbia una posizione di rilievo all'interno della politica monetaria. Ricordo che sempre la Shelton qualche giorno fa ha lasciato un post in cui diceva e rivendicava il diritto del congresso a regolamentare il denaro che è stato esternalizzato alla Federal Reserve come agenzia indipendente. Quindi quello che dovrebbero fare tutti i parlamenti. Io ricordo che tutti parlano di banca centrale indipendente e si richiamano a Riccardo, ma Riccardo diceva già a suo tempo che l'operato della banca centrale che doveva essere indipendente dal governo perché il re faceva le guerre e la guerra genera l'inflazione, le banche dovevano essere controllate da dei membri del Parlamento eletto dai cittadini. Questo la BCE l'ha dimenticato. Eh sì, l'ha dimenticato. Noi avevamo un tema che dovevamo trattare tra i primissimi in scaletta, ma lo trattiamo adesso tra l'altro, dobbiamo trattarlo in 5 minuti perché abbiamo delle esigenze di tempo, ma possiamo riprenderlo. Lamberto l'avevo annunciato, era uno dei due temi che aveva annunciato, che l'Austria si muove verso i BRICS. La Serbia, ricordiamo, come avevo detto all'inizio, ha presentato ufficialmente richiesta di ammissione all'organizzazione che la settimana prossima a Kazan avrà questo appuntamento che è già considerato storia in pratica. L'Austria che ha una forte rappresentanza parlamentare, realmente sovranista tra l'altro. Ecco, che scenari potrebbero aprirsi? Vi ricordo, pochissimi minuti purtroppo. Cerco di essere molto molto sintetico. Allora, l'Unione Europea, così come l'abbiamo conosciuta, è destinata a sparire. I tempi non sono noti, i segnali ci sono tutti. Sono anche non, diciamo, visibili all'occhio immediatamente, mi riferisco per esempio alle normative sull'agricoltura. Nel caso dell'Italia, molto molto penalizzanti, perché il settore primario va tutelato, se manca il cibo è finita. E per la prima volta l'Italia importa più di quanto esporta nel settore primario. Quindi questo è un problema. È il problema. L'Unione Europea, proprio perché è una sorta di lager a cielo aperto, ovvero è quel immaginario superstato ben lontano da quello che voleva realizzare Altero Spinelli, Schumann, Adenauer, eccetera, nel 1950, è diventato di fatto lo zoo della mafia cazzara, perché qua stanno facendo una sorta di esperimento sociale, in particolare in Italia. Cito una nota del ministro Lorenzin, per esempio, che nel suo ambito ha fatto dell'Italia un laboratorio per quanto riguarda Big Pharma, ma l'Italia e l'Europa sono laboratori anche per altre situazioni. Quindi l'Austria, per una serie di ragioni, prima di altri, ha fatto un'azione che è fuori di dubbio audace, coraggiosa e forse aggiungo anche provocatoria, perché l'Austria da sola non può andare da nessuna parte. Ci deve essere un costrutto dietro che l'Austria da sola di per sé fatica a poter proseguire, però rimane il gesto. Concludo. L'Europa di domani non potrà fare a meno dell'Austria, quindi l'Europa non potrà mai andare nel BRICS che conosciamo oggi, perché sarebbe probabilmente un problema di equilibri internazionali. Ci sarebbe un mondo troppo sbilanciato. sì. Quindi è un'Europa a sé stante, alleata della Russia, sì, ma anche in buoni rapporti con gli Stati Uniti, sì. Non certamente un'Europa in antitesi con la Russia. Quindi l'Austria probabilmente sta facendo da staffetta per un nuovo passaggio. sì. Anche se, ricordo, non potrei essere in antitesi con la Russia, anche se mi sembra dichiarazione di oggi o di ieri dell'ambasciatore russo, dice che ormai l'Italia ha fatto troppi passi indietro per poter recuperare i rapporti con la Russia. Staremo a vedere. Armando, minuto, un minuto e mezzo su questo tema che riprenderemo, ovviamente. Sì, prima cosa la richiesta di adesione della Serbia è molto importante, perché avrà già una breccia nel cuore delle nostre. Un avvicinamento dell'Austria, e qualora poi l'Austria dovesse aderire, comporterebbe automaticamente anche una adesione dell'Ungheria, di Orban, e forse anche della Grecia. Tanto è vero che c'è una notizia che è passata un po' sotto i riflettori. Il primo ministro Orban ha accusato l'Unione Europea, attenti bene, di voler rovesciare il governo ungherese. Quindi già l'Ungheria si è comportata male perché era amica di Putin, amica dei russi, perché ha cercato di appianare la crisi ucraina. Quindi credo che il voler, e credo che Orban abbia tutte le informazioni disponibili per poter fare un'affermazione di questo genere, è chiaro che questa è proprio la paura dell'Unione Europea, dei burocrati e soprattutto di chi sta dietro, che qualcosa scappi di mano. La Serbia che aderisce mette paura, una potenziale adesione dell'Austria con Ungheria e Grecia mette ancora più paura e quindi non mi sorprende se c'è stato un tentativo di voler rovesciare il governo ungherese. Eh sì, con una possibile, con eventuali adesioni di questi paesi poi l'effetto domino probabilmente, ci sarebbero poi sempre più probabilmente in futuro le condizioni perché questo effetto domino si inneschi un effetto domino. Siamo in chiusura, io ringrazio di questa puntata che se possibile è stata ancora più densa di contenuti e di informazioni e di questo io ringrazio moltissimo Lamberto Rimondini, grazie. Grazie Carlo, grazie Armando e grazie a tutte le amiche che ci hanno ascoltato e gli amici. E grazie ad Armando Savini, grazie a tutti, buona giornata. Grazie, grazie a tutti voi amici ascoltatori.